E' una nette volley che nell'ultimo periodo si è ritrovata e non poco importantissimo successo della squadra di Romano contro il San Marco a Cancello. 3-1 il risultato finale nella palestra d'Amo. Grande e bella vittoria per i Sabatini che ottengono un risultato positivo abbastanza agevolmente. Nel primo set alzata spettacolare di Matarazzo di Bagger per Spera che ha concluso una bellissima azione. Il primo parziale si è concluso 25-18. Fase di appannamento nel secondo set. 25-20 per i Casertani. Terzo set molto equilibrato ma sul 24-25 per gli ospiti c'è stata la grande reazione di Atripalda che ha vinto con De Palma e Cipollone, subentrati che con le loro giocate hanno permesso di cambiare l'inerzia del match. A spaccare la partita nel set decisivo 2-1 di De Palma, bravo in ricezione. Terza vittoria di fila per gli atripaldesi. Sabato si va a Pomigliano contro Alberti. Bisogna migliorare la posizione in classifica. Due i punti di distacco dalla sesta e dalla quinta. Una vittoria permetterebbe di scavalcare la Vitolo Volley e la Volley World.